Passando alle vicende amministrative del Comune e le guida, le dimissioni si possono revocare? Guardi, io sono stato molto chiaro, io non avevo i numeri per approvare il provvedimento più importante di un'amministrazione comunale, il bilancio di previsione. Se dovessero cambiare queste condizioni e ci fossero i numeri per sostenere la maggioranza, io sono pronto a ritirarle, ma ovviamente passa di lì il ritiro delle dimissioni. Da come lo dice, sembra che questi numeri ci saranno? Credo di sì, diciamo che in qualche modo si è capito che c'è stata qualche assenza non proprio voluta e che quindi potrebbe invece rappresentare un numero congruo di consiglieri di maggioranza. Ho ritenuto non dover fare nessun giochetto politico, l'amministrazione deve andare avanti, se ha i numeri per andare avanti, se può sostenere il suo programma. Punto, se ci sono andremo avanti.